bene ragazzi è partita la nostra avventura per la 5 chilometri a kia che sarà il 27 aprile del 2014 noi siamo in senso doppio ci vediamo lì ma prima se ci vogliamo vedere prima ci vediamo questa sera a dove? Viale Monza 140 allo Zellig mi raccomando non mancate tanto noi ci prepariamo ci vediamo noi andiamo correndo ciao ragazzi